Se noi vogliamo avere una strategia di medio periodo, noi non possiamo continuare a pensare che l'immigrazione si risolva con uno slogan o con un comunicato stampa. L'Italia ha scelto, più o meno consapevolmente, qualche governatore del nord dovrebbe saberlo perché faceva il ministro in quel momento, una strategia di politica di immigrazione che ha portato agli accordi di Dublino e che ha portato alle attuali regole. Secondo me queste regole non sono regole capaci di aiutarci a affrontare il problema perché lasciano l'Italia da sola, ma sono regole che qualcuno in passato ha voluto. Così come quegli stessi governatori, o meglio alcuni di quei governatori che oggi si lamentano sono stati membri di un governo che ha fatto tutte le scelte di politica estera. Noi non siamo in campagna elettorale permanente, noi non pensiamo che basti fare un comunicato stampa perché se vai in Europa a dire che occorre avere uno sguardo solidale e tutti devono fare qualcosa è difficile farlo quando alcune regioni del tuo paese dicono però a noi non ci riguarda, a noi non riguarda.